Per le pugliesi della Lega Pro Calcistica arriva un turno imbra settimanale della decima giornata tra riscatti e conferme. Attesa per la trasferta dell'audace Cerignola ad Avellino, la formazione giallo-blu allenata da Ivan Antisci e Reduce della vittoria ottenuta contro il Latina per 2-0, mentre i partenopei dell'ex tecnico Michele Pazienza avevano vinto contro il Monterosi per 2-1. Il Brancavilla cerca riscatto in terra naziale contro il Latina. La formazione pugliese Reduce dalla sconvitta pesante avvenuta nel derby di domenica scorsa 3-0 ad opera del Monopoli, che è atteso in casa alla sfida in interna contro il Ficerno. La squadra questa che nel precedente turno di campionato è stata costretta al pareggio 1-1 dal Messina, mentre il Taranto in crisi dopo il K.O. di Catania è atteso alla sfida in interna contro la Turis, sconvitta dalla Juve Stabia, capolista del torneo per 2-1. Le altre partite si giuteranno giovedì e riguarderanno Messina Brindisi, la formazione Brindisina in silenzio stampa dopo l'ennesimo K.O. e contestazione di Timosi. Voggio a Benevento, i rossonelli chiamati a riscatto dopo il K.O. di Crotone e Potenza Sorrento.